ben trovati buongiorno 14 luglio c'è la rassegna stampa di tg plus che parte dal mattino di padova per la provincia di padova comuni senza 72 milioni sono le tasse mai pagate dal 2022 padova ne avanza quasi 30 evasori in diminuzione a manco maggiore per imu in provincia la classifica del mancato incasso dei tributi è guidata da abano terme poi purtroppo c'è questa foto notizia dello schianto e caos in a4 l'auto che si incastra nel tir un morto e tre feriti poi ci sono anche insomma vedremo poi la notizia anche in altri giornali così avremo modo di parlarne di più la corte UE è legittimo l'obbligo alla vaccinazione questo dopo il ricorso di una infermiera novax e nell'alta padovana anche lì grandine e vento distruggono i campi di grano sono gravi i danni magari sentiremo col dirette l'allarme dell'usl tre bambini su dieci pesano troppo anche qui c'è la possibilità di un approfondimento il poi il protocollo per accogliere i migranti e ora è congelato ci sono i sindaci che qualcuno si è un po messo di traverso andiamo a vedere sul gazettino legge sul fine vita veneto in prima fila se ne è parlato parecchio nei mesi scorsi e si continua a parlarne ancora profughi terremoto nella lega vedete la notizia di prima il siluro di stefani all'intesa firmata da zaia e conte accoglienza diffusa mai dice fedviga fallimentare si vedrà perché anche qui sono spaccature che danno una certa un certo taglio alla cosa tromba d'aria la strage degli alberi al nord est un po' dappertutto c'è stato questo c'è stato questo problema e sul corriere del veneto vedete che anche qui nella foto notizia capannoni scoperchiati danni a case ospedali il flagello nel gran caldo e lega il video del segretario stefani no ai migranti presa di distanza dal protocollo zaia conte vedremo cosa succederà questa notizia che rimbalza un po' in questi giorni l'italiano e la matematica sconosciuti da un alunno su tre test invalsi veneto al top ma con lacune e questa vedete la scena dell'incidente famiglia si schianta contro un camion in sosta un morto e tre feriti purtroppo i camion in sosta sono molto pericolosi bisogna e poi bisogna bisogna comunque andare piano c'è poco da fare san marco a venezia l'ipotesi di ridurre i decibel e probabilmente si è parlato molto anche di questi concerti ma insomma non è una novità che bisogna ridurre i decibel a san marco è successo già dall'epoca dei pink floyd e poi insomma le varie polemiche rimbalzano di anno in anno andiamo a vedere la prima pagina anche di notizie plus cittadella controlli su attività commerciali scattano le denunce a bovolenta due auto e due bici incidenti con quattro feriti ma sono situazioni diverse e allora poi per il resto potete andare a vedere vedete potete andare a dare un'occhiata anche alle altre notizie che trovate sulla pagina di notizie plus in tutte le in tutte le province ma poi a noi naturalmente faremo anche una rassegna stampa provincia per provincia è tutto a